Sempre per Posterossi, che torna da Contessa, la mette in mezzo, attenzione, Rosafio sul secondo palo, se l'aggiusta col mancino, e la sblocca lui al ventottesimo della ripresa, gol di Marco Rosafio, Regia 1 e Tella 0. Sta vibrando il Mappei Stadium, perché la Regia al momento è soltanto un punto dietro al Modena, che è sotto il gubbio, e quindi lo dicevamo che la Regia è anche la squadra che segna più gol con i subentrati, ed eccolo qua. Il sesto centro in campionato, di Marco Rosafio. Mamma mia che finale di stagione di questo girone B21-22.